erano oggi non lo sarò più ci arrivi ti che non passo maybe ma che significa maybe che significa andrea maybe forse vuol dire lo so che significa forse me l'hai chiesto due volte ah non sa la dieta ricordami com'era ma che volo malissimo ma dove sta chiudendo eh oh testa chiudendo hotel che cazzo era quella roba era un rest ma questi del buco li vale distruggere oddio tritamente qua comunque questi del buco li vale voglio ora distruggere faccio faccio questa cazzo dove cazzo è veramente se vuoi prendo un altro sciacallo lo dò lo dò lì vale se ti muovi son felice eh ma non ti dico quello che ti dà si ah io no sveglia cazzo 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 va bene se vedi il load out no cazzo che ci hanno fatto il load out vicino a te ho capito e basta eh si o no non è una domanda va bene no 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 si lo corre la cazza no come un po' d'osso tu io c'è la taglia cosa vuoi eh io sono cosa vuoi solo c'è sto l'auto lontano un caramellone andrea farmamellina si sono buttati si sono buttati sto dando shop venditore cazzo 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 trappone lo so che lo mi chiam la norma cazzo 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 doppia macchina per divertire macchina o o o o o o in accia la macchina la taglia Dove cazzo è questa casa? Porco dio vengo sopra Se hai tempo andato capirò C'è gente top Siamoci qui Per favore C'è gente top airport Ok Mio c'è uno C'è uno what? Forse erano i due E uno è morto male Adesso i colli di top airport Vabbè Prendiamo un check out Andiamo Non stiamo centrosi C'è gente Si sto arrivando Ci andiamo? Si Eh? Hotello con la metro? Oh fan Si Lo facciamo so che è in frattata anche C'è faccio so che è male Cazzo Prendiamo un po' 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 tronca il franziano un'altra stanza la borsa tene di chi è in grano via t buonanotte buonanotte per attraverso non avevano due ragazze vorrebbe essere uno o 2 12 quando non con tre panni il suo modo io ando a balanza e la stacqua un'altra parte e andrea anche per il tuo cecchino il preso ecco l'agrazione ho smesso cazzo era acqua la latina nella lingua per un concorso in grado e ma tu qui ma tu e tu non so per il regalo del voluto per la palestra che si è notato ai tranquillo un bar l'ho ferito raro il dono conti e chi non può sono un popolo acqua e se mi rosa compro la maschera e ci andiamo però c'è però la ricetta a perdere tempo orario p hotel corrando centro barriera non parto a metro stato tutto la roma e porto 10 secondi parola via la palestra è più veloce al costo ma devo riabituarmi alla palestra azioni muzioni io sono full, ti serve? me ne servono ne sono dodici i papa no di ho visto il potere andrea e papa ah... mi stavo incazzato, mi stavo incazzato, mi stai incazzato metti il suo sdraiato per favore sdraiato, sdraiato, ecco che non ti vedi caso mai ci sta qualcuno lo vediamo prima, perchè mi ha messo in piedi da solo? ok oh, abbassati e io bella dov'è la mia ammetto mio magico? no, è l'altro no, io non ce l'ho qui oddio io ce le termine lo ce l'ha eh, tu stai cazzo i termini mi hai rotto io ce l'ho se vedrò spesso e poi dobbiamo pensare dove andare a prima vogliamo sapere ma non ci può dov'è uscire qua vediamo dei pezzi e dove andiamo dopo qua ah merda, e facciamo una rotation dove dove c'è il muro no e c'è l'elico e' più verità ricottolo se lo dottore di tutto spruzzo e' un po' più dopo la parola e' un po' rairoca e' un po' rairoca volante e' te l'ha fatta tante altre anche sa che avvicinamento mi non però ho sparato mi sono scontato sempre a carri g vado a matti ricotto in avvicinamento è sceso solo voi poter darlo no è vero si è droppato un tipo qua a figato la devo ricordare io la gente che ci stava dietro di te arrivo elicottero madonna dove prenderlo anche la palestra arrivo oh dove vado io voglio andare io nuova la sciopta sono qua ti prendo rito ci andiamo si si con la palestra con i corpi cecchino go go comunque elicottero sono morto stanno pushando forse mi autorezza e scappo lì però c'è si copro se riesco si va a botto una terra qua la barriera mi faceva uscire dal bagno l'altro è morto il tizio l'altro l'ho chiuso qua qua ieri dammi i numeri dove cazzo so c'è un venditore vado ce l'avevo fatta ma l'ho giocata bene non mi avanti l'ho giocata bene perché abbiamo fatto credere che eravamo da soli più che altro mi dispiace perché mi sono incastrato nel bagno come ha fatto di aprire il cazzo l'ho giocato controllo per ottenere l'ho 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 se vuoi dopo qua eh perfetto eh si fai quello che vuoi devo andare a riprendere la mia c'è gente mincazzo però ma l'ho un bel temiano mi canta pure non dico che cazzo quanto danno glielo ho fatto teccata per otti c'è la mano giù per chi eh si quindi ecco da me o no andiamo direttamente eh si poi siamo meglio qui eh doppio camion possiamo andare a pink blue? eh poi dobbiamo crossare se non chiude lì eh va bene anche dove sono gli off dobbiamo crossare pensaci però ci possiamo picchiare da blu direttamente da qua ci possiamo picchiare camion di movimento cazzo chi è l'ho d'aria? vabbè la prendo io così lascia cazzo camion si avvicina c'è elicottero elicottero nemico ecco la ecco la eh ecco la ottima lì no no ma dove andai se andai pingo arancione chi? bella 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 come mi chiamai vero andrea? ma chi c'hai con me? mamma se non lo so dei dati pitt saluto accorto di non avere la maschera come la maschera c'è un acqua al sacerato www.lucco.it forse ha fatto la cazzata compra bombardamento ma io ci sto e pensato perché non potremmo riprendere api cecchino non so forse poco dio io mi nascondo non se va nell'angolino capisco capito che schifo ok io non è morta per tutto se se non c'è già qualcuno mi ricordano affrontato lo so quando fa andare avanti a mamma no tutto il senso e vediamo se c'è gente dalla la cammino avvicinamento il paro prima mettiamoci bene facendo il delfino libero allora io metto una clamor qua vediamo in questa scala va va al negozio se lo spacca mi ha detto tutto se mi spacchi il camion ricevuto colpito no non è vero no hai colpito il che preso preso tra poco tra poco sarà veicola ambientata forse si vabbè due corti sono due 5.5 3 minuti per tritarlo cinque tiri eh si ok ok inoltre ho finito una ciotola e anche per pocazzi prima poi ma ma io provvedo stavola c'ero una vita neanche l'epoca qui no grazie domani c'è la tante xx ripresi che aveva usato dopo scomparsi da questo punto non so compro dietro forse siamo al prossimo migliore della safe forse si ma già te le termiti mi ingazzo io c'ho le claim che cavolo che termiti eh usale allora usale non mese non mese due claim allora che sei lì che sei lì allora è inutile eh ma non è per guardare se qualcuno arriva allora mi stavendo anch'io ho troppo avuto la setup ho troppo passare a coprire WAP nemico in volo se tronna mi cazzo oh gente qua what nuovo torno su uff che tiro magico ho aperto ho aperto più ho aperto io eh palla dai eccoli vedo un movimento palla sotto puoi essere allo shop dove venire no no ok non c'è un po' po' corno eh si spara spara sulla freccia bitonica ci vado qua lo dò sui vicini andrea mi hai sentito? eh augure figli maschi è vero dai ti copro ti speriamo che abbassino le claimor vai veloce quante sono lei lo dà? eccolo non è vero non è vero come ho fatto a non prendere no la volo sulla bomba di ragazzo sono tra l'auto ma non è vero non è vero ma non è vero no no infatti non ci vado ce l'ho pensato me ne so qui oh sono caduto ma che cazzo no no non cadi grande oh arriva arriva che si è brutta cosa è brutta cosa qui c'è uno zainetto 2 zainetti 2 zainetti ce l'ho qua va a 5 no erano 3 l'altro lo dò l'altro lo dò che non ho capito dove cazzo era non ci credo che lo ha preso eccolo drita drita eccolo è lato termite che vedo bene ventito secondi c'è il raio o sei tu? ah sei tu cazzo sei tu cazzo sei qui là? a me non sei eh ma non lo so non lo so devo cerchinarmi in pulce non è bello cioè santax beh so qui attenzione erasi in arrivo non c'è pure contrassegnata un attimo viene un bordello di gianda andrea eh non c'è molto bordello che può venire dieci stronzi camion di avvicinamento è tuo devi rompergli il culo eh sono in due su camion sei droppato? sta a prenderlo d'auto si si è fermato o che? eh non voglio spiegare ma non c'è ma va troppo veloce il camion colpito quanto ho rito sono dietro colpito un'altra volta colpito un'altra volta colpito un'altra volta colpito un'altra volta sei sceso sentendo la rompa è coro naturalizzato ok perfetto siamo tutti nella zona sicura vengo da te ne restano meno di dieci puoi vincere di tre noi già cinque team da tu eh si vedo vedo movimenti è un tipo se lo vedo 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 movimento cazzo non c'è avviso vai lì vai lì bravo ti ritrovo uno no vai no non penserai a me non sto al concetto non penserai a me uuuh guardate bravo oh sono morti in cricone siamo tre team da due arrivano bingo sono il tipo di vita qua vado top vieni con me sei con me arrivano arrivano oh ma hanno distrutto i due l'argo sta qua va piastra l'anno e ti piastra piastra ti nessun colpo signor però c'è veno più chiudano chiudano è sopra qui è aperto no più clamor sono tutti sotto aspettino 2 1 2 contro 1 siamo 2 contro 1 secondo me è sotto prego dimmi che è quello pingabile no è sotto di noi secondo me affazio trolla indietro è spruzzo da un tanto però quello ti pinga a te però uuuuh dove andare vai vado qua vado bello ah va poi uno se non si deve incazzare bene sento al detto solo il che tosisco eh audio bello 2 kg grande 2 che palle abbassato che palle il cazzo potevano farti morire bravo riconosci il tuo panno bravo mi piace mi piace e non mi sa che il motore hai dato 2 comunque vabbè no vabbè 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 ah cazzo trentissima vabbè 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 non lo sapessi cioè non lo sapevo vabbè sticato Se hai metto la barriera in bagno non posso uscire L'ho dotto a prendere la pugna e la barriera